Musica Buon pomeriggio, bentrovati TG12. Nuove assunzioni a tempo indeterminato per le province e la città metropolitana, grazie all'approvazione della Leggina che modifica la legge regionale 2 del 2016. Sentiamo il servizio. Approvata la Leggina che modifica la legge regionale 2 del 2016, le province e città metropolitana potranno fare nuove assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale pari ai dipendenti di ruolo andati in pensione tra il 2015 e il 2017. Tali assunzioni saranno da destinarsi alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica. Prorogata nella stessa sede al 30 giugno 2018 anche l'approvazione del piano di riordino. Inoltre, l'articolo 2 modifica parzialmente il testo dell'articolo 36 della stessa legge, con il quale ora è consentito anche agli iscritti all'ordine regionale dei dottori commercialisti di far parte dell'organo di revisione legale dei conti. Le nuove assunzioni da parte di province e città metropolitana, precisa l'assessore agli enti locali Cristiano Erriu, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma consentiranno agli enti intermedi di ripristinare in tempi brevi gli organici e di garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Precisa ancora Erriu, nel conteggio non figurano i dipendenti che nel frattempo sono stati trasferiti alla regione, per esempio per lo svolgimento di servizi e funzioni, come quelle delle politiche del lavoro e in materia di turismo. È stata distribuita nei giorni scorsi nelle case dei sassaresi la pubblicazione dell'amministrazione comunale dedicata al bilancio dell'attività svolta nei tre anni e mezzo della Giunta Sanna. Nel testo sono illustrate anche le linee programmatiche dell'ultimo anno di mandato. Sentiamo il servizio di Luca Fodai. Nuove risorse per una città più moderna, sostenibile e solidale. Nei giorni scorsi è stata completata la distribuzione alle famiglie delle 42.000 coppie della pubblicazione Sassari 2014-2019, più valori per la nostra città. Un documento che contiene il bilancio dell'attività amministrativa svolta finora dalla Giunta Sanna e traccia le linee programmatiche per l'ultimo anno di mandato. Sono illustrati non solo i progetti finanziati che danno conto della visione della città, ma sono riportati anche i numeri del bilancio e del lavoro del Consiglio Comunale, che fanno capire quanto viene fatto dalla macchina amministrativa di Palazzo Ducale e degli assessorati. Una pubblicazione che rendi conto all'attività fin qui svolta, di questi primi tre anni e mezzo fondamentalmente, e che consente ai cittadini di capire in maniera molto rapida e veloce quello che questa amministrazione ha compiuto. Sono due capitoli fondamentali. Uno è quello delle realizzazioni vere e proprie, quindi c'è una sezione che parla di che cosa è stato fatto, e poi un'altra sezione invece che rappresenta la programmazione, il futuro, tutte le risorse che abbiamo già programmato per la città e per quelle anche che abbiamo già utilizzato, e quindi un documento di consultazione che arriva direttamente nelle case dei cittadini. Devo dire che anche grazie agli organi di stampa e di telecomunicazione, come Canale 12, la città è sempre puntualmente informata, però si capisce bene che è un attimo, è il momento del servizio, è il momento magari della pagina di giornale. Questa pubblicazione invece può essere consultata a casa con facilità quotidianamente e verificare appunto che cosa fa l'amministrazione, avere conto di quello che è stato programmato, fatto, di che cosa abbiamo in servo nel futuro. Il prezzo del pecorino romano sale del 102%, ma il costo del latte non cresce nella stessa maniera. Questa è la denuncia di Coldiretti Sardegna che verte su possibili speculazioni ai danni dei produttori. Sentiamo Valeria Secchi che ce ne parla. Sale al 102% il prezzo del pecorino romano, toccando gli 8,50 euro al chilo. Il latte con cui viene prodotto viene invece pagato 85 centesimi al litro, a guadagnare dunque solo una parte della filiera, quella della trasformazione. La realtà sostiene il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, parla di una differenza abissale tra il trend di crescita del pecorino romano e quella del latte, uno più che raddoppiato, l'altro ferma al 41,7%. Insomma, il prezzo del latte rispetto a quello del pecorino romano è cresciuto a meno della metà. Il costo del latte è infatti aumentato dello 0,36% in meno del romano. La differenza è di circa 100 milioni di euro a sfavore delle tasche dei pastori, che, con il prezzo del latte crollato a 60 centesimi durante la scorsa annata, hanno pagato 130 milioni di 150 persi con il crollo del prezzo del pecorino romano. Con una crescita così repentina del 102% del prezzo del romano in 5 mesi, si rischia che qualcuno ci speculi, sottolinea Luca Saba, scaricando i costi sui pastori. In questa situazione ci preoccupa il silenzio non solo dei trasformatori, ma anche di chi ha la competenza di programmare, denuncia Battista Qualbu, come l'Oilos, l'organismo al quale ci si è affidati per poter meglio programmare e gestire un futuro diverso del comparto, ma che al momento continua a tacere. La Sardegna e la Corsica avranno i collegamenti in regime di continuità territoriale, ma solo nel periodo invernale. La Giunta regionale ha stanziato oltre 2 milioni e mezzo di euro per coprire gli oneri di servizio da novembre a marzo. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Sanna. La continuità territoriale sarà applicata anche tra la Sardegna e la Corsica. La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge che prevede lo stanziamento di oltre 2 milioni e mezzo per la copertura degli oneri di servizio. Con questo provvedimento si individuano le risorse per la compensazione economica nel collegamento maritimo tra le due isole nel periodo invernale, da novembre a marzo, mentre nel periodo estivo la domanda consente la prestazione del servizio in regime di libero mercato. Individuate le risorse, seguirà la stesura di una procedura di evidenza pubblica assicurato l'assessore dei trasporti Carlo Careddu, attraverso la quale sarà selezionato un armatore che dovrà gestire la tratta in continuità nel rispetto di orari, tariffe e servizi specifici, a garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini sardi e corsi nel libero scambio delle merci. Pur essendo di natura internazionale, il collegamento riveste interesse prevalentemente locale, essendo considerata una rotta frontaliera a breve distanza. Questa caratteristica, riconosciuta con decisione ad hoc dalla Commissione europea, consente all'amministrazione regionale di ripristinare il pubblico servizio nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Il porto algherese sarà gestito da un unico organismo, la Marina di Alghero, che offrirà stessi standard qualitativi e prezionitari in tutti i 3.000 posti barca, intanto è stato affidato al Comune, il piano regolatore dello scalo e si proseguirà con i lavori in banchina per 440 metri ancora. Vediamo il servizio. Il porto di Alghero cambia volto, sia strutturalmente che con una gestione unitaria di tutti i servizi offerti dallo scalo. Questo è quanto è emerso in una riunione che si è svolta ieri sera all'assessorato regionale all'urbanistica, alla quale hanno partecipato l'assessore Armando Irriu, il sindaco della città catalana Mario Bruno, i rappresentanti della Marina algherese. Diversi gli argomenti trattati, tra questi l'affidamento al Comune e del piano regolatore portuale sulla base di quanto disposto dall'iniguida della Regione, che demanda questa attività agli enti locali. La prosecuzione dei lavori di banchinamento per altri 440 metri che includono il rifacimento di asfalti e illuminazione. La prima tranche era stata ultimata lo scorso anno. È un progetto unitario di gestione di tutti i servizi portuali che sarà gestito da un unico organismo, la Marina di Alghero, che comprenderà tutte le marinerie attualmente presenti. L'utente potrà usufruire di un'unica banca dati in cui saranno inseriti i 3.000 posti barca attualmente disponibili, che avranno stessi prezzi e stessi standard. Un salto di qualità che si attendeva da tempo per uno scalo che è stato inserito nelle rotte crocieristiche e che ogni anno ospita migliaia di diportisti da tutto il mondo. La gestione portuale non poteva più essere demandata alla singola iniziativa, spesso, peraltro, in concorrenza tra loro. E parliamo di maltempo. Le forti raffiche di vento che hanno raggiunto nell'isola i 100 km orari, creando grandi disagi nei collegamenti marittimi. Il vento non lascerà la Sardegna neanche nei prossimi giorni, passando da Ponente a Maestrale. Sentiamo Adriano Porqueddo. Da qualche ora la Sardegna è investita dal vento che nella notte ha raggiunto i 100 km orari. Le raffiche di vento di Ponente hanno creato disagi nei collegamenti marittimi nell'isola. Il traghetto Nurages, che doveva partire ieri sera da Genova per raggiungere Porto Torres, ha lasciato gli ormeggi solo questa mattina e raggiungerà il porto nel tardo pomeriggio. A Golfo Aranci, il Sardinia Regina è ormeggiato con un'ora e mezza di ritardo a causa delle condizioni meteo. Infine, i collegamenti a Santa Teresa di Gallura con Bonifacio in Corsica sono interrotti da ieri sera. La nave proveniente da Cività Vecchia ha traccato al porto di Olbia con due ore di ritardo. Come annunciato, l'allertamento lanciato ieri dalla Protezione Civile il vento durante la notte ha soffiato con forte intensità. Secondo quanto registrato dall'Ufficio Meteo dell'Aeronautica Militare di Decimo Manno, a Capocaccia, le raffiche hanno superato i 70 km orari. 80 sono stati toccati a Capocarbonare nella costa sud orientale. A Olbia, le raffiche in alcuni momenti hanno superato gli 80 km. La vicina stazione in Corsica a Solenzara ha registrato durante la notte raffiche anche a 120 km l'ora. Il vento comunque non lascerà la Sardegna nemmeno oggi. Tenderà infatti, stando alle previsioni, a rinforzarsi passando da Ponente a Maestrale con raffiche che potranno raggiungere i 100 km orari con picchi che potranno anche superarli. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Ben tornati in studio con la pagina sportiva parliamo di basket settimana da dimenticare per i giganti che rimediano una pesante sconfitta in Champions e lasciano matematicamente la competizione. Squadra che vola direttamente ad Esio in ritiro in vista della gara che vedrà i bianco-blu impegnati nella prima di ritorno del campionato LBA contro Cantù. Il servizio di Icori Bichesu. La Dinamo Banco in Sardegna cade in casa alla capolista del gruppo A di Basketball Champions League che centra l'undicesima vittoria e resta imbattuta in regolar season di Coppa. Dopo un primo quarto in equilibrio 18-17 la Dinamo crolla sotto l'offensiva a Monegasca che con una seconda frazione a 24-8 si impone che ha un'autorità. Gli uomini di coach Federico Pasquini non riescono a riservire la china nel secondo tempo e cedono sul parquet della Salgaston Medecine. In sala stampa coach Federico Pasquini commenta a caldo il match credo che dopo quello che è successo questo weekend cioè aver mancato la qualificazione a Fanaleti di Coppa Italia abbiamo perso la fiducia e abbiamo incassato il peggior stop possibile perché abbiamo incontrato una squadra del calibro di Monaco. Abbiamo giocato la nostra partita per 15 minuti ma quando loro hanno iniziato a giocare più aggressivamente sia in difesa sia in attacco abbiamo perso il feeling con la gara. Ora dobbiamo necessariamente ripartire non possiamo pensare che il 26 dicembre eravamo una grande squadra e dopo meno di un mese non siamo in grado di giocare. Credo che il mio lavoro sia quello di alleggerire la testa ai miei giocatori ricordare loro che siamo una buona squadra e non dobbiamo certo distruggere la nostra stagione perché non abbiamo centrato la qualificazione alla Final 8. Devo dire da un lato che giocare contro Monaco è tosta per tutti non a caso e prima sia nel campionato francese sia in Basketball Champions League ma d'altro canto noi non siamo la squadra vista oggi. È mia responsabilità uscire a questa situazione dobbiamo andare oltre e riprendere e lavorare. Da adesso c'è solo operativo lavorare non vedo niente di diverso da fare solo lavorando duro possiamo tornare a quelli di 20 giorni fa. Nel frattempo la squadra ha già raggiunto Desio dove preparerà la gara che la vedrà impegnata nella prima di ritorno contro Cantù. Era questa l'ultima notizia del TG non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifi tv.tv sulla pagina internet www.canale12.it e ancora sui social Facebook Instagram e Youtube il prossimo TG sarà come sempre questa sera alle 19.45 prima di salutarvi ancora vi ricordo che a seguire ci sarà il Doc News il TG repato da French Mentana io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon proseguimento di serata arrivederci Grazie a tutti